E scattata l'ora X, a partire da oggi prende il via il calciomercato invernale. In Serie B, il Bari, che per voce del suo stesso presidente, Luigi De Laurentiis, ha annunciato di voler essere protagonista delle trattative e a caccia di una punta e un playmaker di centrocampo. Queste almeno le priorità dei biancorossi, alle quali si aggiunge la ricerca di un terzino sinistro nella sempre più concreta ipotesi di una partenza di Frabotta. Tanti nomi caldi accostati ai galletti negli ultimi giorni, in avanti tra i più gettonati quello del 33enne marocchino del Frosinone, Sufjan Bidaoui. L'ala sinistra ex Ascoli potrebbe accettare di scendere di categoria a fronte del poco spazio trovato finora nell'undici di Eusebio Di Francesco. Discorso simile per la punta del Genoa, Gheorghe Puskas, il 27enne calciatore romeno, sembra non rientrare nei piani del rosso-blu e una sua cessione a gennaio a titolo definitivo o in prestito è un'ipotesi più che probabile. Polito resta alla finestra e potrebbe convincere il calciatore a tornare a Bari dopo un anno trascorso in biancorosso nella stagione 2015-2016. Il Bari ha però bisogno anche di un play che possa far fronte all'infortunio di Maiello. L'ultima suggestione è Guibre del Modena. A sinistra si sta aprendo uno spiraglio interessante per uno scambio fra botta Barreca con la Sampdoria. In uscita, oltre al terzino ex Juve a Campora e a Ramu, potrebbe partire anche Zusek.